Pier Camillo Davigo, uno dei magistrati eroi di Mani Pulite, uno dei PM più severi contro la corruzione della politica e il malcostume di noi poveracci italiani, è stato condannato a 15 mesi per rivelazioni del segreto d'ufficio. Peccato. Adesso ha annunciato che farà appello e noi gli auguriamo di riuscire a dimostrare di essere innocente o quantomeno di essere prescritto come tanta gente che è stata perseguitata dalla giustizia poi innocente o colpevole che fosse e poi risultata prescritta. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che da quando ha dismesso la toga a Pier Camillo Davigo non gliene va più bene una. Per 40 anni lui ha detto che ha finito tante volte sotto procedimento e ha sempre vinto.